Un Barletta rinfrancato dal pareggio di Casarano torna in campo per preparare la sfida di domenica contro il Martina, Biancorossi reduci da un punto prezioso sul campo dei rossazzurri che per larghi tratti del match hanno assediato la squadra di Ginestra, capace però di reggere l'urto e pungere nelle fasi cruciali dell'incontro. Sessione pomeridiana per cominciare la marcia di avvicinamento al prossimo turno con l'incognita Schelotto dopo un'altra domenica in box. L'argentino verrà avvalutato nell'arco della settimana con il rischio di un possibile allungo dei tempi di recupero. Si riparte dai punti certi, in particolare Ngon per l'attacco, Provitolo tra i pali, protagonista assoluto a Casarano e Silvestre in difesa, autore del gol del pareggio. Bisognava dare un segnale alla squadra, all'ambiente, era importante portare i punti a casa e fortunatamente facendo un secondo tempo importante ci siamo riusciti. Ecco, un balletta diametralmente opposto tra primo e secondo tempo, cosa vi ha detto Ginestra negli spogliatoi? Ci ha dato la carica perché nel primo tempo siamo stati un po' spenti, abbiamo sbagliato un po' troppo, eravamo bassi, ci ha motivato un po' e nel secondo tempo tra la carica che ci ha dato e l'assetto di modulo diverso siamo riusciti a cambiare a qualcosa e la partita è stata un'altra. Atteso intanto il parere della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo per l'ampliamento del settore distinti che porterà la capienza del Puttilli a 7.499 posti. Il balletta lavora tra campo e mercato in attesa di nuovi rinforzi dopo l'arrivo di De Marco, mentre l'amministrazione comunale guarda l'aspetto logistico delle partite casalinghe.